La Procura della Repubblica di Paola, tramite la tenenza della Guardia di Finanza di Scalea, ha notificato l'avviso di chiusura delle indagini preliminari ai 57 inquisiti nell'operazione Striscia, condotta dalle fiamme gialle contro l'assente ismo nel CAPT di Preammare. L'autorità giudiziaria, dopo aver avvagliato le posizioni degli indagati, ha deciso dunque di procedere contro tutti e 57 i dipendenti ASP coinvolti e avrebbe confermato l'impianto accusatorio della truffa aggravata. Ora, per gli indagati, si apre un periodo di 20 giorni entro il quale potranno presentare documenti e essere sottoposti ad interrogatorio o chiedere al pubblico ministero ulteriori indagini da compiersi entro un massimo di 60 giorni. Terminato questo periodo, si saprà se l'autorità giudiziaria chiederà il rinvio a giudizio, un'ipotesi molto probabile, come documenta la prassi. La chiusura indagini ha colto di sorpresa gli interessati. Il procuratore capo di Paola, Giordano Bruno, pochi giorni dopo l'operazione Striscia, aveva infatti dichiarato che il lavoro della procura paolana si sarebbe concluso a settembre a causa delle carenze inorganico. Con l'operazione Striscia, lo ricordiamo, sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Scalea 57 dipendenti pubblici del Centro di Assistenza Primaria Territoriale di Preammare, ex ospedale. Dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Paola, è emerso anche che in alcuni casi un dipendente timbrava il cartellino di ingresso al lavoro per 10 colleghi alla volta. Le indagini sono state condotte dai finanzieri di Scalea con una telecamera nascosta installata nei pressi della macchina Striscia Beige. Confrontando le immagini di un mese con gli elenchi delle strisciature giornaliere è stato possibile individuare le condotte sospette e risalire con esattezza agli essenteisti.